buonasera poeti dello spazio e del cibo e spazio Resistenza Poetica torna a noi torna a voi sabato 29 questo sabato prossimo che arriva alle 9 e mezzo come sempre in collegamento live streaming voi cliccate su nuova Resistenza e ci trovate la serata che ormai erano mesi che mancava l'abbiamo chiamata alterodie per i nostri progenitori latini l'indomani dell'indomani non ben certezza avremmo detto in termini rosaici ricordando antiche e splendide grandezze ma purtroppo i tempi che corrono anche la poesia la fatica a farsi luce nel buio che ci circonda vi aspettiamo un ora sabato una Resistenza Poetica nuova Resistenza.org un incontro che francamente ci mancava a me mancava la direzione mancava a presto a sabato ciao 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 ciao